confermate anche quest'anno nel duomo cattedrale di salerno le giornate matteane una due giorni di riflessione sul testo del vangelo di matteo patrono della città capoluogo che prepara i solenni festeggiamenti in onore del santo evangelista il tema scelto per quest'anno è così nacque gesù il cristo i racconti dell'infanzia secondo il vangelo di matteo e si svolgerà nella sala santo maso d'aquino del duomo di salerno nel pieno rispetto della normativa covid il 18 settembre alle ore 19 interverranno il professor antonio landi biblista della pontificia università urbaniana con un alexio sui racconti dell'infanzia scrittura storia teologia e il professor filippo belli biblista della facoltà teologica dell'italia centrale con un alexio sull'uso delle scritture di israele nel racconto dell'infanzia in matteo il secondo giorno il 19 settembre a partire dalle ore 18 il biblista ernesto della corte dell'istituto di scienze religiose san matteo di salerno terrà un alexio su giuseppe uomo giusto secondo il disegno divino mentre il direttore dell'istituto il biblista bruno lancuba si soffermerà sul viaggio dei magi con un alexio dal titolo giunsero da oriente i lavori saranno introdotti e moderati dalla teologa all'orella parente docente presso l'istituto san matteo nonché responsabile arte e cultura dell'arcidiocesi di salerno campagna e acerno nonché presieduti dall'arcivescovo di salerno campagna e acerno sua eccellenza monsignor andrea bellandi a concludere il programma della due giorni anche il saluto del parroco della cattedrale di salerno don michele pecoraro l'iniziativa delle giornate matteane si pone l'obiettivo di far conoscere ai salernitani la grande profondità del vangelo secondo matteo valorizzando il legame che unisce l'evangelista alla città capoluogo e all'intera provincia un'occasione per portare al di fuori delle aule accademiche la riflessione teologica e offrirla alla fruizione dei fedeli le due serate del 18 e del 19 settembre saranno visibili anche in diretta su telediocesi e sulla pagina facebook della cattedrale di salerno al fine di garantire la più ampia partecipazione per un momento che arricchisce i festeggiamenti in onore del santo patrono che si concluderanno il 21 settembre memoria liturgica di san matteo